ciao a tutti ragazzi e benvenuti anche oggi in questo nuovo video sono itubermik o michele rossini e oggi andremo a scoprire la mia stanza facendo il room setup quindi senza perdere tempo cominciamo subito come possiamo vedere questo è il green screen ovvero una parete verde che serve per modificare l'aspetto dei video ad esempio cambiare colore blu rosso arancione satin oppure per mettere un'immagine dietro al soggetto pensate che si può mettere anche un filmato come sfondo questa è la mia postazione di lavoro dove giro edito i miei video ho un macbook air collegato tramite l'adattatore thunderbolt vga ad un monitor per pc così sembra di lavorare su un mac pro ovviamente ho collegato al mac anche una tastiera e un mouse per farlo sembrare ancora più professionale questo strumento è il mixer che serve per registrare la voce tramite queste entrate xlr online o di ascoltare e registrare la musica tramera rca o jack dat setre le casse servono per ascoltare il tutto ovviamente sono passive perciò dobbiamo collegarle ad un amplificatore che le dia potenza come subwoofer uso queste casse attive anche se sembrano passive perché è stato modificato il cavo per internet uso questo modem telecom italia come pc fisso vero e proprio uso un pacar bell windows anche se quest'ultimo non lo uso quasi mai perché è veramente lentissimo come telecamere per registrare i miei video uso la canon eos 700d con l'obiettivo 18 55 mm e il 55 da 150 mm che è veramente un super teleobiettivo prima registro su una sd xc da 32 gigabyte extreme plus e poi su una schedina sd xc da 32 gigabyte extreme per visualizzare i video girati con la canon sull'ipad uso l'apple camera connexion kit o da scheda sd ad hoc 30 pin oppure da usb ad hoc 30 pin questo è il mio ipad 2 con installato ios 8.2 per registrare i miei vlog che non metto su youtube uso un microfono lavalier dmc 60 20 c collegato allo zoom h1 registra in mono sul canale sinistro ma non è un problema perché da audacity si può far diventare mono quindi adatto al lavalier per registrare l'audio su youtube e alcuni video uso l'onair recording bundle della soundstation del quale trovate la mia recensione sul canale se dovessi filmare dei video dove deve comparire la canon uso questo aggeggino che serve per mettere il proprio smartphone su un cavalletto che abbia la vita standard da un quarto per editare i miei filmati uso i movie 11 bene ragazzi anche oggi è tutto e noi ci vediamo sempre in un prossimo filmato ciao a tutti da i super amic